Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia degli imperatori romani e attraverso di loro ovviamente la storia dell'impero. Bene, l'imperatore di oggi è uno di quegli imperatori che sono da sempre divisivi e stiamo parlando di Teodosio. Secondo gli autori cristiani che lo definirono Teodosio il Grande è stato uno dei migliori imperatori della sua epoca. Insieme a Costantino l'imperatore che in qualche modo riuscì a portare in auge il cristianesimo, anzi in qualche modo Teodosio completò quest'opera perché con i suoi editti a tutti gli effetti mise fuori legge il paganesimo, quantomeno lo limitò fortemente. Bene, secondo invece altri è invece l'imperatore che in qualche modo ha gettato i germi che porteranno al crollo della parte occidentale dell'impero. Perché è colui che ha iniziato ad accettare i barbari all'interno dell'impero, non più come singoli ma come intera entità, con tanto di un sovrano a guidarli. È l'uomo che con la sua pesante tassazione rese ancora più disastrata l'economia dell'impero. È l'uomo che condusse l'impero attraverso alcune guerre civili che ne indebolirono l'esercito, ma anche colui che appunto con i suoi editti in qualche modo ne indebolì la coesione interna dal punto di vista religioso. Quale di queste due visioni è quella vera? Teodosio il Grande o Teodosio il Distruttore dell'impero? Beh, ovviamente come sempre oggi cercheremo di dare una risposta che, anche questo come sempre, non è quasi mai né bianca né nera, ma è una scala di grigio. E sarà a voi decidere quanto questo grigio sia chiaro o scuro. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Teodosio nacque nel 347 d.C. in Iberia. Secondo alcune fonti sarebbe nato Aitalica, che, se non ricordate le vecchie puntate di Imperatore, era il luogo di nascita di origine di Traiano e Adriano. Il che fa pensare che in realtà sia stato volutamente spostato sul luogo di nascita proprio per avvicinarlo a questi due imperatori del passato. Ma, ripeto, non lo sappiamo. Come abbiamo già raccontato nelle scorse puntate, il padre non era imperatore. Si chiamava anche lui Teodosio, viene spesso chiamato il comes Teodosio per distinguerlo ovviamente dal figlio, e aveva fatto carriera all'interno dell'esercito. A differenza di tanti imperatori o padri di imperatori che abbiamo raccontato nelle ultime puntate a partire dalla crisi del III secolo, però Teodosio non era uno sconosciuto, non era un uomo sbucato dal nulla figlio di contadini. In realtà faceva parte della piccola nobiltà locale, che in Liberia si era stanziata ovviamente a seguito dei romani ormai da parecchi secoli, e quindi in qualche modo per una volta abbiamo qualcuno che non sia un parvenu. Ad ogni modo, il comes Teodosio aveva iniziato a farsi conoscere ovviamente all'interno dell'esercito, era diventato uno dei migliori generali di Valentiniano, e proprio sotto di lui, servendo, si era fatto un nome. Nel 368, ad accompagnarlo per la prima volta nelle sue campagne, fu proprio il figlio Teodosio, il futuro imperatore, il quale accompagnò il padre nelle sue campagne in Britannia, l'abbiamo parlato nella puntata dedicata a Valentiniano I, lo accompagnò nelle sue campagne in Africa e dimostrò fino al 374 d.C. di essere un ottimo comandante, al pari proprio del padre. Nel 375 però lasciò il servizio del padre, inizialmente combattendo, in questo caso come comandante autonomo, sempre sotto gli ordini dell'imperatore, per poi rientrare più o meno precipitosamente in Iberia. Cos'era successo? Era successo che il padre era caduto in disgrazia. Dopo le sue vittorie in Africa era stato considerato un elemento pericoloso. Era morto Valentiniano I, i suoi successori, a cominciare dal figlio Graziano, avevano, loro più che altro, la loro corte, grossi dubbi sulla fedeltà del comest Teodosio e alla fine avevano deciso di eliminarlo. Inutile dire che il figlio, Teodosio appunto, preferì quindi ritirarsi temporaneamente a vita privata e come avevano fatto tanti altri prima di lui, allontanarsi dalla bufera prima che la bufera lo prendesse e lo facesse sparire come il padre. In Spagna si sposerà con Elia Flaccilla, non sappiamo molto di lei, probabilmente anche lei faceva parte della piccola nobiltà locale, insomma, si rimaneva per così dire in famiglia. E da Elia Flaccilla nel corso degli anni avrà tre figli, una figlia femmina, Pulcheria, che morirà giovanissima, e soprattutto due figli maschi, cioè Onorio e Arcadio, che invece gli succederanno coi come imperatori, ma lo rivedremo poi alla fine. Questo suo esilio in realtà durerà pochissimo, durerà solamente pochi anni. Nel 378, infatti, avvenne la battaglia di Adrianopoli. L'imperatore Valente, come abbiamo raccontato, peraltro in una puntata apposita dedicata ad Adrianopoli, andato con il suo esercito a tentare di fermare e di sconfiggere i goti, ne venne invece a sua volta sconfitto. Valente morì, o quantomeno scomparve, non sappiamo quale fu il suo destino, e l'impero d'Oriente si trovò improvvisamente senza una guida. In occidente erano rimasti due imperatori, Graziano e Valentignano II, due fratelli, entrambi figli di Valentignano I, Graziano già adulto, Valentignano II invece ancora un bambino che non deteneva nessun potere, e sarà proprio Graziano, che trovato simprovvisamente a dover gestire anche la parte orientale dell'impero, quella che era in mano allo zio Valente, che intanto appunto era morto, decise di richiamare Teodosio. Perché questa scelta? E' ovviamente, come abbiamo già discusso, perché Graziano, che in quel momento era in Occidente a controllare la sua parte dell'Occidente, probabilmente temeva che andarsi a impegnare direttamente in Oriente avrebbe da una parte indebolito la tenuta dei suoi territori in Occidente, con il rischio di perdere anche quella base, dall'altra sarebbe stata un'impresa molto molto difficile anche per le sue forze, perché i Goti, dopo aver annientato l'esercito di Valente, ormai scorrazzavano liberi attraverso la traccia, e addirittura erano arrivati a raggiungere Costantinopoli cercando di metterla sotto assedio, per poi ritirarsi, dato che non avevano macchine d'assedio per poterla prendere. Per questo si ricordò di Teodosio, si ricordò delle sue capacità, si ricordò di quanto di buono aveva fatto in passato, e decise di nominarlo suo Augusto, affidandogli ovviamente l'Oriente, e di spedirlo in Oriente per cercare di fermare i Goti. Teodosio lo fece, andò in Oriente, pose inizialmente come propria base tessalonica, che era considerata più facilmente difendibile, soprattutto da cui meglio poteva gestire il fronte, e qui si trovò praticamente di fronte a un disastro. Non solo i Goti imperversavano, non solo una delle parti più ricche dei territori che un tempo erano state divalente era ormai sottoposta a continue razzie, ma l'esercito dell'Oriente praticamente non esisteva più. Non c'era più un esercito da campagna, era andato praticamente distrutto, quelle poche truppe rimaste erano disperse in vari insediamenti, e nella prima fase cercò in tutti i modi di ricreare un esercito, cercando di arruolare nuove truppe anche in Anatolia, senza però ricevere grosso aiuto da parte delle popolazioni locali, cercando di utilizzare quelle poche truppe che aveva per cercare di indebolire le posizioni dei Goti, con piccoli attacchi ai gruppi che intanto si allargavano per il territorio per fare razzie, ma almeno inizialmente fu praticamente tutto inutile. Con i Goti, che erano talmente padroni della situazione, che a un certo punto poterono addirittura permettersi di dividersi in due parti e una parte dirigersi verso nord, dove saranno intercettati dal Graziano e dal suo esercito, che però, per evitare di fare la stessa fine dello zio, preferì pagare l'auto e ricompense e l'auto idoni per farli tornare indietro, insomma per restituirli a Teodosio e farli tornare un problema suo. Teodosio intanto, che ad un certo punto, probabilmente intorno al 380, non lo sappiamo benissimo perché i dati, le informazioni su questo periodo sono scarne, perché quella che era stata la nostra fonte negli ultime puntate, cioè Ammiano Marcellino, si ferma al 378 d.C., alla Mattea di Adrianopoli, quindi non ci racconta cosa avviene dopo. E ripeto, su questo periodo le informazioni sono decisamente più scarne e anche un po' da prendere con le molle, diciamo così. Ad ogni modo, a quanto pare, Teodosio aveva cercato di affrontare i Goti. Ne era stato sconfitto, non era stata una grossa battaglia, ma questa sconfitta lo aveva ulteriormente indebolito e gli aveva dimostrato che prima di poter sostituire le forze che erano date perdute da Adrianopoli, ci sarebbe voluto parecchio tempo. Lui di tempo però non ne aveva, ma in aiuto gli venne il caso. Nel 380 d.C. infatti morì Fritigerno, che se ricordate era stato il capo dei Goti che avevano vinto proprio la battaglia di Adrianopoli, colui che aveva guidato la razzie che aveva portato poi alla battaglia, e al posto di Fritigerno sarà nominato come nuovo sovrano dei Goti Atanarico, che se ricordate era già stato sovrano prima che Fritigerno prendesse il trono. Vi rimando alla puntata su Valente se volete vedere tutti i vari passaggi. Ad ogni modo Atanarico decise di venire a patti con Teodosio e lo fece perché intanto i territori su cui stavano ormai razziando da tempo si erano impoveriti e i Goti volevano trovare un modo per potersi stabilire. Bene, Teodosio decise di accettare questa proposta, di accettare che i Goti si stabilissero all'interno dell'impero romano, ma a differenza di quanto era avvenuto fino a quel momento in cui i gruppi venivano sparsi e sostanzialmente finivano sotto controllo dell'autorità romana, in questo caso i Goti si sarebbero invece insediati come federati, cioè con una funzione sostanzialmente di alleanza, occupavano una parte del territorio romano, che rimaneva teoricamente parte dell'impero romano ma era affidato a loro in gestione, il loro sovrano manteneva la propria autonomia, in cambio dovevano però promettere di fornire alle truppe romane, quando richiesto un esercito, un esercito che peraltro sarebbe rimasto sotto il comando dei loro generali, dei loro sovrani, ma che avrebbe combattuto insieme alle forze dell'imperatore. Atannarico, che morirà poi di lì ad un anno in realtà, decise di accettare e in questo modo i Goti per la prima volta si stabilirono all'interno dell'impero romano creando sostanzialmente un proprio piccolo dominio, o meglio, mantenendo la propria autonomia, i propri capi e il proprio sovrano. Questa decisione è difficile definirla una vera e propria vittoria, nel senso che è vero che la situazione era praticamente irrecuperabile, che dopo Adrianopoli è difficile che l'esercito romano potesse veramente affrontare i Goti, ma è ovvio che questo fu un indebolimento dell'impero, perché per la prima volta appunto una parte si trovava ad essere occupata da un popolo che sfuggiva al controllo di Roma. Molto probabilmente Teodosi inizialmente aveva in mente che questo dovesse essere solo un accordo temporaneo, che prima o poi i Goti si sarebbero indeboliti e l'impero sarebbe riuscito o a scacciarli o direttamente ad annientarli. In effetti, come vedremo dopo, fece anche qualche tentativo per riuscire a farlo, ma il risultato fu a tutti gli effetti un indebolimento dell'impero. Inoltre ci fu un indebolimento dal punto di vista economico, perché non solo i territori che erano stati razziati iniziarono a pagare ovviamente meno tasse, ma quando tornò a Costantinopoli fu costretto ad aumentare le tasse a tutte le altre zone per poter pagare i mercenari che era costretto ad assoldare per ripristinare l'esercito romano. Teodosio si trovò poi in grossa difficoltà non solo nei confronti dell'Occidente, ma anche dell'Oriente, dove i rapporti con i Sasanidi non erano buoni. Se ricordate, Valente aveva cercato in qualche modo di ripristinare una pace con i Sasanidi, ma soprattutto di ricacciare i Sasanidi indietro, riconquistando i territori che questi avevano strappato all'impero. Teodosio, reso si conto anche in questo caso di non avere un esercito sufficiente, anche in questo caso decise di venire a patti. E dopo alcune scaramucce di confine e lunghe trattative diplomatiche, nel 384 d.C. giunse ad un accordo con i Sasanidi sostanzialmente spartendosi l'Armenia, cioè quel regno che ormai da secoli era uno dei principali punti di discussione tra i Romani e i Sasanidi, e prima ancora addirittura tra i Romani e i parti. Anche in questo caso, se vogliamo, l'accordo fu quasi un piccolo passo indietro, perché i Romani accettavano di dividere l'Armenia in due parti, una parte più piccola ad occidente, che sarebbe ricaduta sotto i Romani, e una parte ad oriente, che invece sarebbe ricaduta sotto i Sasanidi, e di accettare che appunto le due parti si dividessero. I Romani in effetti di lì a pochi anni approfitteranno della morte del sovrano della parte occidentale per inglobarla all'interno dell'impero. La parte orientale invece sopravviverà autonoma, pur nel dominio dei Sasanidi, ancora per più tempo. Ma presto i due imperi sarebbero tornati a scontrarsi. Dato che però all'interno dell'impero romano è impossibile vivere in pace, e questo ormai l'abbiamo ampiamente capito, mentre lui era impegnato a trattare con i Sasanidi, in occidente succedeva il finimondo. Come abbiamo raccontato nella puntata su Graziano, nel 383 d.C., infatti un generale di stanza in Britannia si era sollevato contro il governo dell'imperatore Graziano. aveva preso le armi, aveva attraversato il canale della Manica, era sbarcato in Gallia, e qui aveva proprio attaccato le forze dell'imperatore. Secondo alcuni, Teodosio non ebbe modo di supportarlo, perché appunto è impegnato in Oriente. Secondo altri, Teodosio fu invece molto ben contento di non supportare Graziano, che chissà, forse non aveva perdonato per aver eliminato il padre, o forse si rendeva conto essere tra i tre imperatori, quello che in quel momento aveva maggior importanza. Eliminato lui, Teodosio gli sarebbe potuto succedere. Ad ogni modo, come abbiamo raccontato, Magno Massimo riuscì a sconfiggere le forze di Graziano e ad occupare, in accordo anche con Teodosio, che fu costretto a riconoscerlo, la parte di Impero Romano che era stata fino a quel momento affidata a Graziano. Nel 387, però, Magno Massimo decise di fare un passo in avanti, e in questo caso, come abbiamo raccontato nella puntata di Valentiniano II, decise di cercare di occupare anche il resto dell'Occidente, quello appunto che era in mano a Valentiniano II. L'attacco inizialmente riuscì. Le sue forze riuscirono ad entrare in Italia, approfittando del fatto di aver annunciato di voler recarsi in pannonia per lottare contro dei barbari che avevano sconfinato, ma una volta in Italia cercò di catturare invece Valentiniano II, che insieme alla madre e alle sorelle fuggirono invece a Costantinopoli sotto la protezione di Teodosio. Magno Massimo inizialmente cercò di accordarsi con Teodosio, sostanzialmente riconoscendolo, e affermando che lui si sarebbe tenuto l'Occidente, Teodosio invece l'Oriente. Teodosio però ormai aveva risolto i suoi problemi, sia quelli con i Goti che quelli con i Sasanini, e a questo punto nel 388 decise di intraprendere una campagna per combattere contro Magno Massimo. Prima di farlo aveva deciso però di legarsi alla famiglia di Valentiniano, e come? Beh, era rimasto vedovo e decise quindi di risposarsi con Galla, che era la sorella di Valentiniano II, quindi figlia di Valentiniano I e della seconda moglie. C'è una particolarità, questo matrimonio non fu particolarmente felice, diciamolo, anche perché la differenza d'età era veramente enorme, come Galla quando si sposarono era poco più di una bambina, ma quando venne consumato darà vita ad uno dei personaggi forse più importanti di quest'ultima fase dell'Impero Romano d'Occidente, cioè Galla Placidia, che il nome ovviamente lo riprende dalla madre Galla, figlia di Teodosio, l'unica dei figli di Teodosio e Galla che sopravviverà, gli altri moriranno, l'ultima peraltro morirà durante il parto, che si porterà via anche la madre, Galla Placidia sarà veramente importantissima e la vedremo poi successivamente, perché ritornerà per buona parte della storia dell'Impero Romano d'Occidente. Quindi ricordatevi di questo nome, abbiamo appena visto nascere un personaggio importantissimo, anche se non proprio nel modo migliore possibile. Ad ogni modo, Teodosio, una volta che ebbe legata la sua dinastia, quella al punto di Teodosiana, a quella invece di Valentiniano, decise di intraprendere una campagna contro Magno Massimo. La cosa particolare di questa campagna, che abbiamo raccontato nella puntata dedicata a Valentiniano II, l'ultima che è uscita due settimane fa, è il fatto che entrambi gli eserciti, per la prima volta, avevano un gran numero di ausiliari e mercenari barbari. Dal lato di Magno Massimo, c'era una grande quantità di mercenari provenienti dalle popolazioni germaniche, in particolare franchi e alemanni. Dal lato invece di Teodosio, c'erano proprio come mercenari i goti, che avevano inviato le loro forze ad unirsi a quelle romane. Lo scontro che avvenne sulla Sava, che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, vide vincitrici proprio le forze di Teodosio, che riuscirono a sconfiggere quelle di Magno Massimo, imporre il proprio dominio sull'Occidente, dopo che Magno Massimo, dopo essere fuggito, era morto e permisero a Teodosio di reinstallare Valentignano II come re, come imperatore, chiedo scusa, in Occidente. In realtà, Valentignano II, di potere, anche rientrato nei suoi domini, non ne ebbe niente, anche perché venne trasferito forzatamente in Gallia e messo a seguito di Arbogaste, il suo magister militum, che, come abbiamo raccontato nella sua puntata, dominava i territori ufficialmente governati da Valentignano II. Teodosio, però, decise di rimanere a Milano e, proprio mentre si trovava a Milano, vi rimase per alcuni anni, venne in contatto, o meglio, strinse contatti ancora più stretti con Ambrogio, che di Milano era vescovo e che, ovviamente, tutti conoscono come Sant'Ambrogio. Ora, il rapporto tra la religione cristiana e Teodosio era sempre stata molto stretta. Teodosio era cristiano, di credo niceano, e quando era diventato Augusto d'Oriente, aveva cercato di far valere questo suo credo. Non era stato facile all'inizio, perché l'Oriente era cristiano, sì, è vero, ma era in mano agli Ariani, perché Valente, l'imperatore prima di lui, era ariano, aveva quindi lungamente favorito questa corrente del cristianesimo, e quando Teodosio si trovò ad arrivare a Costantinopoli per la prima volta, mise subito in chiaro che lui, invece, quella corrente non l'avrebbe tollerata. Tanto da arrivare a cacciare il vescovo di Costantinopoli, che era ariano, e a nominare un altro vescovo, in questo caso di credo niceano, al suo posto. Le sue decisioni in ambito religioso saranno poi confermate nel 380 d.C., quando dalla sua cancelleria uscirà fuori l'editto di Tessalonica, poi firmato anche da Graziano e da Valentiniano II, che a tutti gli effetti sanciva il ruolo principale della chiesa cristiana, o meglio, della chiesa cristiana di credo niceano. Anche di questo abbiamo già parlato qualche puntata fa. In realtà, se in Occidente questo rimase ancora per qualche tempo un po' lettera morta, nel senso che gli scontri tra ariani e niceani continuarono nel tempo, anche perché, non dimenticatevi, che la corte di Valentiniano II e lo stesso Valentiniano II rimasero di credo ariano fino a quando non si trasferirono a Costantinopoli. Quindi, insomma, la situazione rimaneva molto complessa. In Oriente, invece, Teodosio insistette proprio nella sua lotta contro gli ariani, contro questo culto considerato eretico, e lo fece chiamando nel 381 il primo concilio di Costantinopoli, che ancora una volta sanciva la superiorità del credo niceano e escludeva dal credo cattolico al credo cristiano tutte le altre eresie. Quando però arrivò a Milano, appunto, la situazione progressivamente andò peggiorando, o almeno per i pagani. Perché? Perché il suo legame con Sant'Ambrogio iniziò a diventare sempre più forte e uno dei simboli di questo legame ci fu nel 390 d.C., quando la città di Tessalonica decise di ribellarsi. In realtà non si trattò di una vera e propria ribellione, quanto di un assassino. All'epoca, infatti, la città era governata da un magister militum di Teodosio, che era di origine visigota, il quale aveva dato ordine di catturare un famosissimo Auriga, noto per le sue qualità, quindi l'idolo delle folle della città, ma anche noto per essere un pederasta. Era stato catturato e la folla, che già lo tollerava poco in quanto visigoto, ma che si era sentita da questi insultata, lo aveva assaltato e lo aveva eliminato. Teodosio, per tutta risposta, aveva dato ordine di organizzare una corsa di bighe in città e dopo che circa 7000 persone erano affluite per vederla, aveva dato ordine di chiudere tutte le entrate e di massacrarle tutte. La cosa, che veniva giustificato ovviamente come una punizione per una tentata a ribellione, non piacque particolarmente a Sant'Ambrogio, che ebbe addirittura l'ardire di attaccare lo stesso Teodosio e di costringerlo a fare penitenza. Il fatto che Teodosio si fosse piegato a questa richiesta ci fa capire quanto il legame fosse in effetti molto stretto. Forse fu proprio su spinta di Sant'Ambrogio che nel 391-392 Teodosio decise di emanare degli editti ancora più duri nei confronti dei pagani. Ora, questi editti sostanzialmente andavano a stabilire tutta una serie di limitazioni per chi era pagano. Veniva confermata l'impossibilità di compiere degli aurispici, di compiere qualunque cosa che potesse sembrare una magia. Iniziò ad essere vietato entrare nei templi per poter farvi dei sacrifici. Dopopoco venne addirittura vietato la possibilità di entrare dentro i templi e progressivamente questo venne preso in varie zone dell'impero come il permesso da parte dell'imperatore di distruggere i templi stessi. Ci furono poi attacchi con danne a carico dei pagani, in particolare venivano puniti coloro che già cristiani tornavano ad essere pagani, i quali perdevano qualunque possibilità di fare testamento o di ereditare da qualcun altro. Insomma tutta una serie di limitazioni che servivano sostanzialmente ad indebolire la componente pagana che all'interno dell'impero era molto forte. Come vi dicevo queste regole e questi ditti vennero presi in alcune zone come una scusa per poter scatenare scontri tra cristiani e pagani. Ne fecero le spese molti templi che vennero chiusi, ne fecero le spese anche dei templi molto antichi come quello di Artemide ad Efeso che era terra già stato danneggiato da un'incursione dei goti più di un secolo prima ma che venne letteralmente saccheggiato spogliato dei suoi marmi dai cristiani che vennero poi utilizzati per fare delle chiese ci furono dei grossi scontri ad esempio ad Alessandria d'Egitto dove il tempio di Serapide vicino alla biblioteca di Alessandria venne preso d'assalto dai cristiani e i pagani che si trovavano all'interno vennero trucidati su quest'ultima storia poi girano varie versioni perché secondo gli autori pagani chiedo scusa cristiani il motivo di questo attacco fu legato al fatto che i cristiani entrarono nel tempio e qui trovarono dei corpi o comunque dei resti umani che indicavano che all'interno del tempio venivano fatti dei sacrifici secondo gli autori pagani invece a mettere quei corpi erano stati i propri cristiani che li avevano tirati fuori dai cimiteri tra coloro che erano stati uccisi come punizione tra i giustiziati e che poi per mascherare tutto questo li avevano addirittura nominati come martiri non sappiamo ovviamente qual è la versione reale ma è ovvio che tutto questo ci dà l'idea di scontri che progressivamente continueranno e vedranno la componente pagana avere sempre più la peggio intanto però Teodosio era rientrato a Costantinopoli e sarà proprio a Costantinopoli che verrà a sapere dell'assassinio di Valentiniano II o meglio della morte di Valentiniano II perché come abbiamo raccontato nella scorsa puntata questo sfortunatissimo imperatore morirà impiccato e nessuno sa probabilmente non sapremo mai se si sia trattato di un suicidio o se invece sia stato fatto uccidere da Arbogaste ne abbiamo parlato nella scorsa puntata fin dall'inizio però i rapporti tra Arbogaste e Teodosio si fecero molto freddi Arbogaste cercò in tutti i modi di farsi riconoscere cercò di discolparsi dicendo che la morte di Valentiniano non era colpa sua stampando monete con le figie di Teodosio e di Arcadio il suo figlio maggiore che Teodosio aveva associato al trono come Augusto fin da quando aveva solamente sei anni cercando sostanzialmente di dichiararsi fedele dello stesso Teodosio ma quando quest'ultimo non solo non gli aveva risposto accordandogli di continuare a governare l'Occidente per conto suo ma addirittura aveva fatto eliminare alcuni dei suoi amici sodali a Roma Arbogaste aveva deciso di nominare un nuovo imperatore perché non nominare se stesso imperatore perché non farsi riconoscere dalle truppe come nuovo imperatore perché Arbogaste era un franco e ovviamente temeva che il popolo non lo avrebbe mai accettato e neanche l'esercito per questo deciso di nominare come nuovo imperatore Flavio Eugenio che era capo della cancederia di Valentiniano II e che era ampiamente riconosciuto come un uomo moderato ora Flavio Eugenio fin dall'inizio Flavio Eugenio era un cristiano ma fin dall'inizio per cercare di portare più uomini possibile dalla propria aveva iniziato ad avere una politica molto aperta nei confronti dei pagani quanto aperta non lo sappiamo nel senso che gli autori cristiani ci dicono che Flavio Eugenio fosse arrivato al punto da far riaprire i templi fare grossi donativi perché i sacerdoti tornassero a svolgere i compiti che facevano prima avesse addirittura riposto l'altare della vittoria e la stato della vittoria nel senato che erano stati fatti togliere qualche anno prima insomma che avesse fatto di tutto per avvicinarsi ai pagani secondo altre fonti in realtà si era semplicemente limitato a sospendere le persecuzioni nei loro confronti ad ogni modo Flavio Eugenio in qualche modo era riuscito a prendere il controllo di una parte dell'occidente ma anche a questo punto i due continuarono a cercare di accordarsi con Teodosio tanto che Flavio Eugenio cercò di far accettare a Teodosio una nuova divisione dell'impero pensando che in futuro a Teodosio sarebbe succeduto Arcadio e lui avrebbe mantenuto l'occidente Teodosio per tutta risposta nominò come nuovo Augusto d'Occidente il proprio figlio secondo genito cioè Onorio a questo punto andando direttamente allo scontro mentre in Occidente Arbogasta e Flavio Eugenio reclutavano truppe soprattutto tra i franchi e gli alemanni in Oriente invece Teodosio dava ordine a uno dei suoi migliori generali che si chiamava Stilicone di fare lo stesso Stilicone è un personaggio importantissimo anche lui come Galla Placidia prima di Galla Placidia influenzerà tantissimo la storia dell'impero romano d'Occidente e ne riparleremo meglio nelle prossime puntate Stilicone era di padre vandalo quindi barbaro e invece di madre romana aveva fatto carriera all'interno dell'esercito aveva dimostrato delle grandissime capacità e anche nel rimettere in piedi l'esercito di Teodosio dimostrò tutte le sue qualità riuscendo ad integrare all'esercito romano anche un gran numero di goti si parla di quasi 20.000 soldati e secondo alcune fonti assoldando anche mercenari tra altri popoli Unni Alani e addirittura mercenari in Oriente ora che c'era la pace con l'impero Sasanide anche da qui potevano giungere dei mercenari con questo esercito Teodosio marciò verso nord insieme a Stilicone cercarono di entrare in Italia passando grossomodo dalla zona di Gorizia e i due eserciti si vennero a scontrare lungo il fiume Frigido che oggi si chiama Vipacco e scorre più o meno al confine tra la Slovenia e l'Italia quindi avete capito più o meno quale sia la zona dello scontro Flavio Eugenio e Darbogaste che avevano teoricamente meno truppe rispetto al loro avversario avevano però preparato attentamente il campo di battaglia si trovavano in una valle ma avevano posto su dei passi montani vicino alla valle stessa avevano posto delle truppe quando le forze di Teodosio entrarono nella valle si resero ovviamente conto di quelle truppe e dato che temevano di essere presi tra due fuochi decisero di attaccare violentemente le forze di Arbogaste e Flavio Eugenio senza un'adeguata preparazione secondo quanto si racconta il 5 settembre del 394 d.C. Teodosio diede ordine ai 20.000 goti di avanzare a guidarli tra i tanti capi c'era un certo Alarico un altro di cui presto sentiremo nuovamente parlare purtroppo ne sentirà parlare anche la stessa Roma con i goti che vennero lanciati in avanti sostanzialmente verso la distruzione secondo alcune fonti fu una scelta consapevole Teodosio non solo voleva indebolire l'esercito avversario ma voleva anche nel frattempo sbarazzarsi di più goti possibili e per questo era anche quasi ben contento che questi venissero massacrati gli scontri in effetti furono molto sanguinosi e videro le forze di Flavio Eugenio riuscire progressivamente ad avere la meglio e se l'intero fronte di Teodosio non crollò fu solo grazie all'intervento di altri reparti che riuscirono a tamponare la falla e ad arrivare alla fine della giornata senza che vi fosse ancora un chiaro vincitore a questo punto Teodosio rischiava veramente la sconfitta ma ad aiutarlo vennero proprio quelle truppe che Flavio Eugenio aveva fatto posizionare sulle alture le quali defezionarono e passarono dalla parte proprio di Teodosio cosa successe il mattino dopo in realtà non lo sappiamo perché ci sono anche qua due versioni la prima versione che quella raccontata da alcuni autori pagani dice che il mattino dopo Teodosio decise di assaltare praticamente vennero prese alla sprovvista e vennero rapidamente sconfitte con Flavio Eugenio che venne decapitato secondo invece gli autori cristiani le cose andarono diversamente i due eserciti tornarono a scontrarsi in maniera assolutamente normale quando improvvisamente un forte vento di Bora si sollevò andando dal lato di Teodosio verso il lato di Flavio Eugenio come sapete in quella zona la Bora colpisce veramente in maniera pesante e questo forte vento che si andava contro le schiere di Flavio Eugenio era talmente forte che viene descritto che i giavellotti e le frecce non solo non riuscivano a raggiungere le forze nemiche ma addirittura ogni tanto tornavano indietro mentre le frecce giavellotti scagliati dall'esercito di Stilicone e di Teodosio arrivavano ancora più violente contro l'esercito di Flavio Eugenio che così ne venne decimato e venne sconfitto catturato e decapitato non sappiamo quale sia la realtà c'è l'idea che in effetti in qualche modo il vento possa aver veramente influito in effetti su questa battaglia girano tutta una serie di vicerie alcuni autori parlano addirittura di un eclissi di sole che avrebbe oscurato il cielo nel primo giorno di battaglia ma almeno questo sappiamo che non è vero perché sono stati fatti calcoli astronomici ed è impossibile che ci fosse un eclissi il 5 settembre in quella posizione ad ogni modo la vittoria di Teodosio fu sostanzialmente totale entrò a Milano da dominatore e sostanzialmente divenne l'unico imperatore di tutto l'impero anche perché Arbogaste si suicidò poco dopo in realtà ci rimarrà per pochissimo perché già quell'autunno si ammalò ufficialmente gli autori parlano di idropisia che vuol dire edeman abbiamo già parlato per qualche vecchio imperatore il che vuol dire che verosimilmente soffriva o di problematiche di tipo renale o di problematiche di tipo cardiaco molto probabilmente erano queste ultime il problema perché morirà molto rapidamente si spegnerà nel gennaio del 395 lasciando i propri due figli a gestire l'impero in realtà secondo alcune fonti avrebbe voluto che i due figli a Onorio venne affidato all'Occidente e ad Arcadio che già in realtà stava facendo le sue veci a Costantinopoli dove era rimasto venne affidato all'Oriente inizialmente avrebbe voluto che a fare da supervisore protettore dei due figli fosse il generale Stilicone unico protettore per mantenere unite le due parti dell'impero la cosa non fu però possibile perché Flavio Rufino che era rimasto in Oriente e che stava appoggiando aiutando il giovane Arcadio decise di mantenere la sua posizione a tutti gli effetti dividendo anche questa carica con Stilicone che rimarrà invece a gestire l'Occidente per aiutare Onorio si chiudeva così la storia di Teodosio all'interno dei suoi ultimi anni avvengono secondo me due eventi che realmente sanciscono un grosso cambiamento per l'impero il primo è di tipo religioso perché al netto degli editti di Teodosio nel 391 proprio a causa di quegli editti in realtà venne per la prima volta da secoli spento il fuoco di Vesta per la prima volta il tempio di Vesta rimase senza il suo fuoco a Roma non ci furono più le vestali non ci fu più nessuno a tenerlo acceso e dopo tanto tempo Roma perse quel simbolo che se ci pensate è uno dei simboli più antichi il secondo simbolo è forse meno visibile ed è nella successione se avete notato quello che era successo fino a questo momento gli imperatori nel momento in cui si erano trovati a dividere tra i figli l'impero avevano sempre affidato l'Occidente con Roma al figlio maggiore e l'Oriente al figlio minore per la prima volta succede il contrario certo potrebbe essere una casualità legata al fatto che nel momento in cui che Teodosio già governava l'Oriente e nel momento in cui si andò a scontrare in Occidente affidò all'unico figlio che era già maggiorenne era già abbastanza grande l'Oriente cioè Arcadio ma in qualche modo può essere un simbolo un simbolo del fatto che ormai la parte orientale dell'impero era diventata quella più importante un simbolo del fatto che ormai Costantinopoli la nuova Roma aveva ampiamente sopravanzato la vecchia Roma cioè appunto Roma in effetti anche se il crollo dell'Occidente non sarà istantaneo ci vorrà ancora parecchio tempo questo potrebbe essere un simbolo di quello che succederà i due figli come vedremo nelle prossime puntate regneranno però parecchio parecchio lungo ma il loro regno e quelli successivi inizieranno a mostrare tutte le crepe di un crollo che presto arriverà e travolgerà una parte dell'impero io mi fermo qua spero sia stata una puntata comprensibile mi rendo conto che alcune cose ho dovuto dire che erano già state raccontate ho cercato di darvene comunque un'infarinatura mi spiace per chi la sentite due volte ma mi trovavo che fosse più completo quando però vi ho detto questo ne abbiamo già parlato in passato è perché lì se ne era parlato in maniera più approfondita quindi se volete affrontare quegli argomenti andate a rivedere le puntate precedenti sostanzialmente quelle dedicate a Valentignano I Valente Graziano e Valentignano II lì ci sono tutti gli eventi che ogni tanto ho detto vi rimando alle puntate precedenti le trovate ovviamente nella playlist come sempre per il resto voglio ringraziare abbonati Patreon chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e soprattutto riusciamo a produrre più materiale a disposizione di tutti il ringraziamento di oggi è particolare per il nick perché vorrei ringraziare tantissimo Obelix74 che in una puntata dedicata a Roma mi fa molto ridere quindi grazie mille a te e anche per questo nick così azzeccato per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo da fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao